Bella a tutti ragazzi e benvenuti a un nuovo video con il suo canale Oggi ragazzi facciamo un video molto molto in fretta perchè tra poco devo uscire Comunque siamo qua su Clash Royale per farci una partitella Però con 10.000 mi piace scherzo no Un po' di di mi piace Ciao Per portarne uno nuovo di video ovviamente Allora voi dono le carte Ok Doniamo il più possibile per essere gentili Ok ragazzi andiamo Avremo questo bollozzo che non ci danno il video Il mazzo mio è questo Quindi facciamoci una bella battaglia E poi vediamo un po' come va raga Vediamo Allora E' un po' una palla a registrarlo C'è la registratura di schermo E' troppo Sopra Questa sotto Ma viene da un po' fastidio però Ci accontentiamo così Lo stesso Ok Aiee vabbè Vabbè andiamo sicuro Cacchio Ok Bello dai 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 Ok Morti barbari Bello 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 Mettiamo questo stregone elettrico Spicy C'è anche quella carta che non è per niente male Bello Bello così Grande chiusura Dai Ok bei danni Ci sta Ci sta Onesto No Potevo fare un altro link Ci sarebbe stato ok Ok andiamo Diotto Disgherri Ok Che Un po' di vita Proviamo qua a fare La domatrice Allora Palla domatrice Dai 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 doma Grande doma Ok da doma ancora un altro hit Siamo in vantaggio Scherzo Magari fa sempre in vantaggio Beh la fai palla su Sgherri Vediamo un po' se Dobbiamo ricaricarci un attimo L'elisir E poi possiamo di conseguenza attaccare Vediamo un pochettino Vediamo Allora Lui non mette niente Ah no La mongolfiera Lui vado un po' sulla calda del goblin Per distrarla un attimo Pericolosa no Non da rite ti prego Però anche il goblin Però anche il goblin Sì Torre Incredibile goblin più gli scheletri Hanno fatto anche una Incredibile Dalla No Buttiamo stai tre torri Buttiamo stai tre torri Buttiamo stai tre torri Fuoria Incredibile Attenzione Possiamo farle Scherzo Forse un po' esagerato Barbaricetti morti C'è almeno una Proviamo a fare la stessa giocata In etica prima Per distrarlo E' una cosa furtiva E' pure la clonazione E' pure un altro hit Mi sa che è persa Però con onore Oh No no Non so bene Dai Andate Andate Please Please Hit 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 Niente E' no L'abbiamo persa Mi sa Mi sa che l'abbiamo persa Ho tirato mano a fare palla E' Tuo Uno Niente Quattro Due Uno Per questo è una bellissima partita Dai Per essere Dai Per essere Prima ci può stare Facciamo Qualcun'altra Qualcuna Allora Faremo un'altra In battaglia Poi se riesco Faccio una parte Perché L'orario È uno dei migliori Allora Vediamo Un po' Cosa possiamo fare Ma una buona prima madre Io vedo subito Quello dei matrici Con la furia La mia classica carta Attenzione C'è anche la strega Bella Sto attacco Attenzione Ok Ok Fai il palla Al mega sgherra Magari Ho sbagliato ovviamente Non fate conto Di miei errori stupidi Allora Proviamo ad andare così E Buonanotte Sono stupidi Questi ci stanno Proprio schiacciando Bello Dai Streghina Giù Ok Bel tronco Noi ne abbiamo fatto Più danni però Manazza La mia domatrice La furia C'è Il goblin Non ho Tante lesire Potrei provare Una doma Di qua Per fare fuori Qualche scheletrigno Per distrarla Più che altro Vai doma Dai vai It It Dato Meno male Troppo forte ragazzi Ve la consiglio Di metterlo nel mazzo Aia Aia E va bene Una volta Mi sa che Ah E fa le mazzo Torre Grande giocata Da parte sua GG 1-0 1-0 E' un po' Molto pericoloso Di laia Tronco su Su questi E proviamo I scheletri sulla 1-1 Raga 1-1 Ma calma 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 Che c'è tutto La parte Ancora da giocare Non è per niente Finita It È clamoroso Stiamo anche avanti Nel putteggio Cioè stiamo giocando Alla grande Ok Per palla Qui Fuori la valki No 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 Non dovete fare Ok Non hanno fatto Troppo danno Per danno È molto peggio Di quanto è stato Furia con la doma Dai doma Dai No Uh 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 Nando Difendiamo qua Un bel tronco Un bel stregone elettrico Mettiamo una Fire palla qua BOMB No L'ho lasciato troppo presto Non lo so È una grande Da parte loro Cacchio Ok Difendiamo Un mega sgherma All'ultimo E' una parte Scusate L'uomo è sottofondo Ma sono Il tram che passano Allora Andiamo così Raga No ma Grande doma Dai 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 Un altro Dato Aia Aia No No E' un sacco di elisir Rispetto a me E' avvantaggiato E' un sacco di elisir E' un sacco di elisir Sì La facciamo Perché Ho subito Sto paulo Apriamo Troveremo Un buona Cavolata Di niente Gialli E' bella Carta epica Andiamo Troviamo Un mazzo Di nuovo Di uno Ok Di uno Parti Però Due parti Veramente Veramente Belli In video Allora Siamo contro Un tizio Che si chiama Mikal Mikal Ma chi si chiama Siamo Praticamente Di una parte Come una Battaglia Solo che Non perdi Trofei Perdonami Ruti Ignoz Ma sono Ancora Un piccolo Ignoz Allora Sinceramente Potevo fare Anche la 2v2 Ma non Ci ho Pensato Allora Intanto Qua mi dice Che ho Memoria piena GG Infatti Lui Ha anche La doma Allora Lui è Pericoloso La vedo male Vabbè Non mi importa Se questa La perdiamo Bella Sulla doma Perché la doma Non è molto utilizzata Su clash E se ormai È un errore Perché la doma Quando entra La partita Spacca Con la furia È veramente Una grande coppia Ormai Questo è il mio mazzo Trovato Probabilmente La doma È una delle mie Carte preferite Se non la mia Preferita Appunto Ok All'ultimo Il goblin Grande carta Il goblin C'è la capanna Perché guarda Quanto danno fa Signori Mettiamo questo Mettiamo questo Cresciamo Non mettiamo la furia Perché Non è la scelta migliore Prima di attaccare Perché facciamo La torre Grandi Non ha attaccato Però Non dire che Offline Dai Lol Lollissimo Abbiamo vinto Così Facendo qualche Corona 3 a 0 Allora Ragazzi Vi saluto Vi ringrazio Per aver guardato Questo video Ci vediamo Forse Con un nuovo video Tra Forse Il pomeriggio Ciao ragazzi Ciao ragazzi